Pena di due anni di reclusione, sospesa e non menzione. Hanno formalizzato il patteggiamento Domenico Mattucci e Luigia Dolce, rispettivamente ex presidente ed ex coordinatrice della cooperativa La Rondine di Lanciano. I due sono difesi dagli avvocati Giuliano Milì, Augusto Lamorge e Matteo Cavallucci, che non hanno voluto rilasciare dichiarazioni. L'inchiesta è quella del maxi appalto da 11 milioni di euro per servizi extra ospedalieri della ASL di Pescara e che è stato segnato dal suicidio in carcere a Vasto di Sabatino Trotta, direttore del Dipartimento di Salute Mentale e candidato con Fratelli d'Italia alle elezioni del 2019, risultando il primo dei non eletti. Secondo i PM Anna Benigni e Luca Sciarretta, Trotta appuntava una scalata all'interno del partito, scalata sponsorizzata dalla cooperativa che ha circa 600 dipendenti. Ho accompagnato Trotta a Roma per consegnare dei soldi a un funzionario ministeriale, aveva rivelato la dolce, ma la morte di Trotta con ogni probabilità ha troncato il filone politico dell'inchiesta. Ora si attende che al GUP venga richiesto il rinvio a giudizio per la cooperativa e per il direttore generale della ASL, Vincenzo Ciamponi. La ASL in un comunicato aveva prima rivendicato la legittimità dell'appalto, salvo poi annullarlo pochi giorni dopo. Mattucci, scegliendo di collaborare, aveva dichiarato di aver consegnato tramite la dolce e trotta 8.000 euro a Ciamponi, il quale li avrebbe utilizzati per acquistare al figlio una Fiat Panda. I due componenti della commissione di gara Antonio Dincecco e Anna Rita Simoni invece sono usciti di scena, la loro posizione è stata archiviata e probabilmente se si andasse a processo saranno chiamati a testimoniare.